L'erotismo suddiviso, l'erotismo in trasgressione e perversione. Voglio fare questa differenza? L'hai appena fatta? L'ho appena fatta, perché la perversione è l'erotismo malato. La perversione, che poi non è solo una perversione erotica, perché una persona può essere una persona perversa quando eccede in qualche cosa e quando fa del male, o, come vi ho detto, a se stessi o agli altri. Per esempio, ci sono delle espressioni che noi usiamo molto spesso in psicologia. Una di queste è il masochismo, chi è il masochista o chi è il sadico. Il masochista o il sadico sono persone che fanno male a loro stesse o agli altri ed eccedono e allora sono perverse. Così come la pedofilia, per esempio, così come tante cose che noi condanniamo, ma è normale che si condannino queste realtà, perché sono delle realtà malate. Persone che vanno curate, persone che vanno seguite, persone che vanno comunque accudite in un certo qual modo. Mentre, quando appunto tu dicevi che differenza c'è, l'altro aspetto è un aspetto piacevole della vita, perché ognuno di noi si esprime come meglio sa. Poi, studiando se stessa, analizzando se stesso, cercando di leggere, di parlare, di incontrare anche altre persone, si scoprono certe realtà e certe situazioni. Io ricordo sempre un filosofo che è stato un filosofo molto importante per il mio, del 1800, ormai non si dice più il secolo scorso, ma non lo so, ma non lo so, ma i secoli, che è Kierkegaard, Soren Kierkegaard, che ha scritto un'opera che si chiama La Out Out. Il dolore dell'esistenza, lui è stato il fondatore poi, in effetti, il padre fondatore dell'esistenzioismo. Il dolore dell'esistenza, il dolore nostro dell'estero, il nostro stato di angoscia, ci può portare, perché la scelta, la scelta di una vita, che può essere una vita, come lui dice, estetica, quindi fondata sull'apparire, può essere una vita etica, fondata invece su un modo di essere che è quello del marito, del buon lavoratore, oppure una vita religiosa. Ma ognuno ha una propria scelta di vita, quindi non sono da condannare né da perseguire in modo, è da perseguire solamente il dolore, bisogna cercare di evitare e di non soffrire, e di non far soffrire gli altri. In quel caso forse va a finire il terreno un po' della patologia per quel punto. In quel caso si finisce nella patologia, per questo io prima parlavo della pedofilia, parlavo del masochismo, o del sagginismo, comunque. No, vorrei aggiungere, se posso, poi dimmi se non sei d'accordo, mi interessa molto il punto di vista, poi alla fine di una professionista che si occupa di questo, sulla questione invece della trasgressione, perché io spesso mi capita, insomma, di parlare della questione dei tabù sessuali, no? Allora, siccome ho questa condanna del bicchiere mezzo pieno, allora anche i tabù ho voluto sforzarmi di vedere il lato positivo dei tabù. Allora, la cosa che mi sono detta è che finché ci saranno tabù in qualche modo da scoprire, che appunto sono tabù e non gusti sessuali, perché una cosa è il gusto e una cosa è il tabù magari imposto dal di sopra e dall'esterno, la cosa bella è proprio che l'esistenza dei tabù ancora oggi ci consente di godere appunto del piacere della trasgressione. Cioè, finché c'è un limite che non è nostro, perché non è un nostro gusto, noi siamo tutti diversi e non ci può piacere tutto, per forza, quindi ci sono cose che ci piacciono e cose che non ci piacciono. Però finché c'è il tabù esiste in qualche modo un campo ancora da esplorare di cose di prime volte, di nuove prime volte che chissà che non svelino qualcosa che invece è una scoperta, magari anche in tarda età, di qualcosa che ci piace e ci fa palpitare. Sei d'accordo? Il tabù muro di Berlino dell'erotismo praticamente. Vedremo un po' se possiamo parlarlo. Pensate a quello che ha scritto Freud. Freud ha scritto un'opera che si chiama Totem e il tabù. Il tabù, sì. Ecco, ora il tabù, e il tabù solitamente, quando si parla di tabù si parla di tabù sessuali in questo caso, no? Ecco, uno dei grandi tabù della storia è la verginità, l'altro è la masturbazione. Ai bambini dicevano, che andavano a confessarsi, dicevano ai ragazzini, insomma adolescenti, dicevano che la masturbazione li faceva diventare cecchi, che la masturbazione li portava a gravi malattie, no? Quando invece il piacere, Freud stesso lo dice, il piacere di farsi del piacere è una scoperta, è una crescita per noi, perché la forza dell'arribido, la forza di questo spinta, che è una spinta sessuale, che è una spinta alla vita, poi oltretutto, perché noi non dimentichiamoci che la sessualità è vita e che la mancanza di sessualità è mancanza poi di vita, in realtà, perché non abbiamo questa comunione con gli altri. Comunque prevederemo adesso... Il tabù, ha ragione lei, ogni tanto qualche piccolo... Cambiano, perché cambiano poi con la cultura, cambiano con le abitudini, cambiano col sociale, tu hai fatto sociologia, e quindi ogni realtà e ogni ambito sociale ha i propri tabù, perché prima tu stavi parlando anche di cose abbastanza dure e difficili da digerire, che in un mondo come il nostro oggi ancora esista la pena di morte, ancora esistono certe situazioni e certe situazioni estremamente gravi. Però esiste anche la Chiesa che impone dei tabù molto, poi ne parleremo sicuramente... No, ma ci sono e ce ne sono tanti purtroppo ancora oggi. Comunque c'è da dire che... Però i tabù negativi, voglio dire... Sì, la Chiesa impone dei tabù da una parte, però poi in qualche modo li favorisce, in qualche modo li da un'altra parte, quando non conviene andarli a toccare. Certo, certo. Però comunque... Però la ricerca della sessualità, scusa, se ne vogliamo parlare dopo... Se ne parleremo fra pochissimo, perché tra l'altro... C'è la pubblicità. No, non c'è la pubblicità, c'è il GR che incombe. Comunque per il discorso dei tabù poi lo approfondiremo naturalmente. E poi comunque i tabù, man mano che si va avanti, proprio come dicevi, appunto tu prima, e poco anzi, che cambiano, si abbattono naturalmente anche con l'evoluzione sociale, ambientale, spettante, mentale, e perciò le cosiddette barriere dei tabù, le barriere del... come il senso del pudore, si allargono, si ampliano in qualche modo. Perciò a questo punto, prima di parlare, io volevo un attimo... Non l'ho mai fatto, la prima volta, lo volevo fare... Volevo fare... Sentire la... la testimonianza di un uomo. Il nostro regista, primo regista, chiamolo, chiamerei, che è Giuseppe Savo, che appunto, su questo argomento, porno e romantico, possono... possono in qualche modo andare d'accordo? Da prima chitta, proprio al volo, così? Ma sicuramente. Sicuramente... Dove? Sicuramente possono andare d'accordo. L'erodismo è un'arte, secondo me. Come dicevano loro. E' un'arte che va scoperta e va tirata fuori piano piano. Ce l'abbiamo tutti alla fine. E come... Non lo so, il bambino che impara a giocare, l'adulto poi impara a tirare fuori la parte erotica che ha dentro. E che... Niente. E questo qua. Bene, grazie Giuseppe. Ti posso dire cosa penso dei tabù? Eh sì, dopo il GR, dopo il GR parleremo solo dei tabù. No. Questa tribù parlerà dei tabù perché mi ha fatto una tribù ormai oggi. Bellissimo. Passiamo la linea a Giuseppe dopo questo intervento. Grazie. Adesso fa l'intervento tecnico e facci ascoltare il GR. Vai. Vicky è stata con un solo ragazzo da quando siamo stati insieme. Perciò io rappresento il 50% di tutte le sue relazioni con i maschi. Sei proprio un bel coglione. Figurati se è stata solo con un ragazzo. È stata perlomeno con tre. Cosa? Quando una ti dice con quanti ragazzi è andata a letto, moltiplica per tre. È quello il numero reale. Ma voi al college non avete imparato un cazzo. Se quello è andato a letto con tre ragazze io sono stata con James Brown e tutto il suo gruppo più 24 orchestrali con la testa a fungo e i pantaloni a zappa, ok? Non è possibile. Kevin non è stato a letto con tre ragazze alla Michigan. Perché dovrebbe mentirmi? Non è una bugia, è un aggiustamento. La regola del tre. La regola del che? Del tre. Se un ragazzo ti dice con quante ragazze è stato, non dice la verità. Tu prendi quel numero, lo dividi per tre e hai il vero totale. State ascoltando Radio Roma. E l'applauso non era per noi, chiaramente era per Pino Daniele da cui abbiamo ascoltato la ruota dopo il GR e naturalmente la canzone che è scelta sempre da Carolina Cutro, ricordiamo, autrice di porno romantica. Stiamo parlando appunto dell'accostamento di queste due parole che apparentemente sembrano che non siano conciliabili e invece secondo la teoria poi di Carolina che poi si è sviluppata